La chiave di lettura di quest'anno è l'Italia al bivio, l'Italia è costretta a prendere in questi prossimi mesi, in questi prossimi tempi, decisioni di carattere strategico. La realtà nazionale e internazionale è estremamente complessa e dobbiamo avere il coraggio di cambiare. Le possibilità sono o continuare sulla vecchia strada piena di buche, di radici di alberi o costruire una strada nuova. Noi pensiamo che si debba costruire una nuova strada. La chiave del rapporto di quest'anno è una chiave molto proiettata sul tema della complessità e anche proiettata in termini internazionali, perché noi viviamo una realtà che deve misurarsi quotidianamente con i cambiamenti profondi che attraversano la società occidente. Abbiamo più paura del futuro che consapevolezza di che forma possa avere. In questo senso di instabilità, precarietà, perbade la società tutta il punto di vista e ci fa leggere tutte le cose che accadono, grandi e piccole, negative, in senso di conferma dell'istabilità. In parte è anche normale una società che diventa più anziani. Noi facciamo più cuccioli che figli.